Vieni Uri, non ci sono lumache sulla strada. Invece sì. L'ex disegnatore di successo ha rinunciato alla carriera per dedicarsi totalmente al figlio Uri. Il loro è un rapporto speciale di complicità, quasi esclusivo. Quando l'ex moglie insiste perché il ragazzo ormai adulto si apra al mondo e vada in un centro specializzato, il padre tenta una rocambolesca fuga insieme a lui. Il regista, a Roma per presentare il film, ha spiegato. Penso che sia un film su una relazione speciale. Anche il padre è molto dolce e fragile. Guardi questa relazione e pensi, oh mio Dio, è l'unico che può capirlo, l'unico che può amarlo. Attraverso quel viaggio capiamo però anche delle cose del padre, che forse non ha realmente sacrificato la sua vita per prendersi cura di Uri, ma che lui stesso era forse troppo fragile per affrontare il mondo. Noi due ha avuto un grande successo in Israele, anche grazie alla bravura degli interpreti Shia Vivi e Noam Imber. E un altro protagonista del film, in qualche modo, è Charlie Chaplin. Il monello di Chaplin, in qualche modo, ha ispirato il racconto, ma anche dato l'ispirazione a tutto il tono del film. Dolce amaro, pieno di humor, mai melodrammatico, mai troppo drammatico, sempre inframezzato dall'ironia. E come regista ho anche cercato, in qualche modo, di fare un omaggio al cinema muto. Ho ancora un paio di domande per lei e poi vorrei vedere Uri. 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 Abbasso il volume. Abbassa. Facciamo insieme tantissime cose.